Molto stimolante, molto interessante. Questo corso ti apre un po' le conoscenze anche semplicemente sui rapporti che ci sono tra un regista, un compositore, cioè il montaggio. Ci ha fatto vedere un sacco di cose che non puoi leggere su un libro, cioè che vengono dall'esperienza. Abbiamo iniziato anche un po' di parte pratica. Riesce a elargire dei contenuti molto interessanti facendoti sentire a tuo agio. Ho sviluppato molto di più le mie tecniche sia di composizione che di utilizzo dei programmi di produzione musicale. Oggi concludere con il mix è stato vedere il lavoro concluso di quello che abbiamo fatto in tutti questi anni ormai.